ciao caro spirito eterno io e te stiamo vivendo un'esperienza umana su piatta terra magari in modo diverso però io adesso ti auguro il meglio della vita e ti dico giornali parole scritte questo è un video parole scritte io ho scritto abbastanza libri te li consiglio e l'ultimo che ho fatto è proprio questo e te lo consiglio e ti consiglio anche la prossima vita quindi ti consiglio parole scritte ma analizziamo un attimo i giornali delle parole scritte chi è scrivere chi vuole comunicare io faccio questi video gratuitamente e molti mi chiedono ma fino a quando li fai fino a quando avrò la voglia e la voglia c'è e la forza cioè ci vogliono la voglia e la forza celentano mi ricordo che a casa dei miei genitori c'è sempre le televisioni accese perché mio padre aveva questa aveva aperto una piccola fabbrica di radio che diceva la fissa delle radio sempre radio accese quindi una volta ha sentito una canzone ma io ho una buona memoria mi ricordo di celentano si chiamava il mondo in mi settima che dice apro il giornale leggo che di giusti al mondo non ce n'è come mai io direi adriano celentano fa il bar ma scusa tu ragiona un attimo ma chi è che scrive sui giornali i giornalisti e chi è che li stampa l'editore e l'editore ha un proprietario allora vi consiglio un libro che ho scritto io gli antichi maestri sono ancora vivi quindi con parole scritte io parlo degli antichi maestri gli antichi maestri sono ancora vivi è interessante no quindi giornale parole scritte non sono negative no c'è stato un periodo che possiamo dire dagli anni 50 agli anni 80 una trentina d'anni in cui le persone dicevano ma tu come fai a dire eh l'ho letto sul giornale no come per dire io l'ho letto sul giornale poi è arrivata alla televisione ma come fai a dire queste cose eh l'ha detto alla televisione poi il giornale era ancora più sta scritto no come dire sta scritto adesso c'è inter c'è youtube ci sono tanto però non sono le parole scritte sbagliate perché poi la parola scritta ha un vantaggio che se io mi metto a leggere questo libro non faccio rumore e anche se ci fosse un black out energetico per cui non funziona più internet è leggo leggo l'importante storia inedita dei mantra e dello yoga tra oriente e occidente diciamo questo capitolo qui spiego che da pitagora che molti non sanno chi è invece meglio sapere l'occidente e l'oriente hanno avuto un collegamento molto forte e l'inquisizione cattolica ha distrutto tutti i collegamenti poi ho fatto una raccolta qui di premi nobel occidentali o grandi come Tolstoy che era vegetariano grandi personaggi storici che parlano di reincarnazione di yoga di meditazione riferendosi alle culture orientali allora la parola scritta non è negativa in assoluto però ci sono dei centri di potere che lo utilizzano per esempio dire che un libro è la parola di dio per me è inaccettabile perché a quale dio può dire un essere superiore essere superiore plurale ma perché dio dovrebbe questo essere superiore usare come modo di comunicare la parola scritta in un mondo di persone che non sanno leggere cioè è vero che dicono anche musè nella roccia ha scolpito i dieci comandamenti ma se uno non sa leggere cosa vuole dei segni nella roccia o forse certi libri sono serviti ad alcuni pochi si chiama oligos pochi archia potere nelle mani di pochi per controllare molti allora usano le parole scritte poi sono andati i giornali e i giornali cosa fanno spesso usano la morte la paura per acchiappare le persone se una bella ragazza di 20 anni viene uccisa fa più notizia di una di 90 anni brutta zoppa cieca che viene uccisa è drammaticamente così cioè fa più notizia il mostro sbatti il mostro in prima pagina si diceva la notizia negativa per cui i giornali e le parole scritte non sono né negative né positive dipende da chi le scrive e dipende anche da chi le legge perché uno può leggere la vita di Hitler Mein Kampf o il libretto rosso di Mao Zedong o il Corano o la Bibbia quello che vuoi e farsi la sua opinione insomma la Bibbia non è che parla di un Dio che è sempre buono quelli che sostengono che Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra dicono fanno vedere un Dio arrabbiato l'ira di Dio ci sono quelli che dicono che Dio voleva uccidere tutta l'umanità al diluvio universale e dicono di essere devoti di essere credenti perché sta scritto ricordate che un libro ha un autore qualcuno l'ha scritto qualcuno l'ha stampato poi ci sono le traduzioni ha visto dall'aramaico siamo in America avevo vissuto alcuni anni negli Stati Uniti un professore di aramaico che la lingua dice Gesù dice che non c'è la parola perdonare quella che viene tradotto perdonare è cancellare che assomiglia un po' alla cultura indiana voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente quindi cancellare il negativo continuo a leggere io ti consiglio i miei di libri i miei ti mando la lista leggi pure i giornali però un atteggiamento intelligente critico critico nel senso costruttivo la parola critico non tutto sbagliato tutto i mass media tutto sbagliato no bisogna imparare e allora c'è una frase di Babaji che è importante il mondo materiale spesso è paragonabile a un mucchio di zucchero immagino non so 10 kg di dudo buttate nel deserto cosa succede? che i chicchi di granelli di zucchero si mescolano in mezzo alla sabbia allora lui dice bisogna fare come la formica intelligente che va lì e porta via solo i granelli di zucchero e lascia quelli di sabbia quindi qui è un po' misto qui c'è un misto di zucchero e sabbia dobbiamo fare come la formica intelligente piano 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 prendere quel poco di buono che c'è qua quindi tu sei intelligente leggi pure i giornali le parole scritte e mantieni la tua libertà la tua libertà di consapevolezza decidi tu questo mi va bene questo non mi va bene